Questo è un progetto al quale teniamo molto come Fondazione Castelisparmio di Terni e Narni perché è un progetto innovativo che sicuramente ci porterà dei frutti soprattutto per un brand di Terni e Narni come città che hanno saputo riorganizzarsi dalla loro vecchia storia industriale e questo è importante perché in un momento in cui di transizione ecologica noi sicuramente siamo partiti per prima e questo devo ringraziare Confindustria la sezione provinciale di Terni perché con questa iniziativa si riescerà a mettere a sistema tutte le aziende a partire le multinazionali che sono quelle che hanno stato il primo propulsore ma anche le piccole e medie imprese per cercare di riaggiornare, risistemare e riqualificare tutti i cicli produttivi e quindi con grande vantaggio per il territorio e per l'ambiente. Grazie. Grazie.